L'olio di cumino nero viene ricavato dai semi della nigella sativa che è un'erba annuale appartenente alla famiglia delle ranuncolacee ed originaria dell'Asia sud-occidentale. La nigella sativa è conosciuta più comunemente come cumino nero, quindi in questo video questi due termini verranno utilizzati per indicare la stessa pianta medicinale. Le prime testimonianze storiche sull'utilizzo della nigella sativa sono state ritrovate in Iraq e risalgono ad oltre 2000 anni avanti Cristo. È interessante notare come gli antichi nutrissero già un profondo rispetto verso questa pianta medicinale in quanto era considerata un rimedio miracoloso, tanto da affibiarle l'appellativo di erba del cielo. Gli arabi usavano il termine abal berata, sperando di averlo pronunciato bene, che significa letteralmente dono della benedizione. Nel corso dei secoli il cumino nero venne introdotto anche nell'antica Grecia e poi in tutto l'impero romano. Avicenna, che è considerato il padre della medicina moderna ed era medico del X secolo dopo Cristo, riportava già nel suo trattato il canone della medicina alcune delle proprietà farmacologiche attribuite al cumino nero come l'azione energizzante e quella presumibilmente antidepressiva. Dall'Asia all'Europa fino all'Africa la medicina tradizionale ha da sempre considerato i semi di cumino nero come dei rimedi molto importanti per il trattamento per esempio dei dolori reumatici, del mal di testa, delle affezioni dell'apparato respiratorio, dell'ipertensione e delle malattie infettive a carico della pelle. Oltre alle proprietà farmacologiche che vedremo essere molto importanti, la nigella sativa è stata ed è tuttora utilizzata come spezia aromatica. Ad oggi l'utilizzo dei semi culinario avviene principalmente in Marocco, in Spagna, a Malta, in Messico, in Cina e in India. I semi della nigella sativa opportunamente essiccati hanno un sapore molto caratteristico e simile a quello dei semi di finocchio. Vengono utilizzati per aromatizzare tantissimi tipi di piatti, dalla carne ai formaggi, dalle verdure ai dolci, fino ai prodotti da forno. La composizione e le caratteristiche chimiche dei semi della nigella sativa variano sensibilmente in relazione al luogo di origine e alle caratteristiche dei metodi di coltivazione. In questa tabella vi riporto le composizioni indicative delle varietà tunisine ed iraniane della nigella sativa. Come potete vedere la varietà iraniana ha un contenuto maggiore di olio fisso rispetto alla varietà tunisina, con un contenuto inferiore di carboidrati e di proteine. Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche la varietà iraniana presenta un valore di perossido e un indice di iodio inferiori rispetto alla varietà tunisina. Questo significa che l'olio di cumino nero iraniano ha un minor contenuto in acidi grassi insaturi ma possiede una migliore conservabilità poiché tende ad irrancidire in modo molto più lento. I primi articoli scientifici sulla nigella sativa risalgono ai primi del 1900 dove si riportano per la prima volta le proprietà antimicrobiche di questa pianta medicinale. Da lì l'interesse scientifico verso la nigella sativa è andato in costante crescendo poiché questa pianta medicinale si è rivelata efficace sotto vari aspetti e in virtù delle sue proprietà antiossidanti anti-infiammatorie, anti-tumorali e immunomodulanti. Sono stati pubblicati i risultati di numerosi studi clinici e sono state svolte diverse revisioni sistematiche e meta-analisi soprattutto negli ultimi decenni. in linea generale il contenuto di olio fisso nei semi della nigella sativa varia dal 35 al 50% e le tecniche di estrazione si differenziano sulla base del metodo operativo. Abbiamo la spremitura a freddo che rappresenta il metodo migliore per ottenere un prodotto finito di estrema qualità e abbiamo i sistemi di estrazione con i solventi a temperature comprese tra i 40 e i 60 gradi. Questi ultimi sistemi sebbene velocizzino i tempi di estrazione e permettano di estrarre maggiori quantità di olio in genere tendono a degradare i principi attivi della nigella sativa riducendone il loro potenziale antiossidante. Per questo motivo si consiglia di acquistare prodotti ricavati con la spremitura a freddo poiché risultano migliori sia a livello nutrizionale che salutistico. I semi della nigella sativa contengono 8 acidi grassi e indicativamente 32 terpeni differenti che vi lascio nelle tabelle. Come potete vedere la composizione degli acidi grassi rispecchia indicativamente quanto vi ho detto in precedenza. L'acido linoleico è il principale acido grasso insaturo seguito dall'acido oleico e l'acido palmitico rappresenta il principale acido grasso saturo dell'olio di semi di cumino nero. Invece le caratteristiche quali quantitative della frazione volatile sono molto diverse tra loro poiché dipendono dalle origini dei semi della nigella sativa. Indicativamente il timochinone e il piccimene sono i composti più rappresentativi dell'olio di cumino nero. Tuttavia esistono molti altri composti che vi lascio in tabella contenuti in concentrazione interessanti. Oltre a questo i semi della nigella sativa contengono anche diterpeni, triterpeni ed alcaloidi. Tra gli alcaloidi ritroviamo quelli isochinolinici, gli indazolici e infine i diterpenici di tipo dolabellano. In modo particolare questi ultimi si sono rivelati molto efficaci per abbassare il contenuto di colesterolo nel sangue. Nei semi della nigella sativa sono inoltre presenti anche i tocoferoli, l'alfa, il beta, il gamma e il delta tocoferolo dove il gamma tocoferolo risulta quello contenuto in maggiore quantità e compreso tra le 8,57 e le 34,23 parti per milioni. Anche in questo caso il contenuto in tocoferoli varia con il variare dei metodi di estrazione e anche delle caratteristiche dei semi di cumino nero. Abbiamo poi i fitosteroli, il beta-sitosterolo è quello contenuto in concentrazioni maggiori, infatti rappresenta circa il 44-54% dei fitosteroli totali ed è seguito poi dallo stigmasterolo che rappresenta il 16,57-20,92%. In concentrazioni minori si ritrovano poi altri composti che vi lascio in questa tabella. Dal punto di vista farmacologico queste sostanze come ho già accennato in altri video che ho fatto sono utili per la gestione del colesterolo alto, quindi se siete interessati a questo argomento vi lascio la playlist di tutti i video che ho fatto nelle schede. Abbiamo poi i polifenoli, infatti nei semi di cumino nero sono presenti anche composti fenolici, in modo particolare la quercetina e il canferolo sono quelli più rappresentativi. In linea generale nei semi di cumino nero sono stati identificati 19 composti polifenolici che vi lascio in questa tabella. Infine in questa pianta medicinale sono presenti anche carboidrati complessi come l'oxilosio e l'arabinosio, vitamine, sali minerali, glicerolipidi e fosfolipidi. Le proprietà farmacologiche del cumino nero è vero che dipendono per la maggior parte dal contenuto in timochinone, tuttavia voglio ricordare che tutti i composti presenti nel fitocomplesso entrano in gioco e modulano le proprietà fisiologiche e farmacologiche di questa pianta medicinale. Il timochinone è considerato il composto biattivo più importante presente nei semi e nell'olio della nigella sativa. In effetti come ho descritto nel mio libro Prevenire e curare secondo natura, questa sostanza è dotata di numerose proprietà farmacologiche che cercherò di riassumervi in questo video. Naturalmente se volete avere maggiori informazioni sulle piante medicinali e sulle sostanze nutritive, vi invito a leggere Prevenire e curare secondo natura poiché troverete veramente tantissime informazioni utili e vi lascio il link sia nelle schede che nella descrizione. Tornando al timochinone, questa sostanza è lipofila, quindi è scarsamente solubile in acqua. Inoltre è fortemente sensibile al calore e alla radiazione solare. Per questo motivo i metodi che prevedono l'utilizzo di alte temperature o la cottura dei semi tendono a degradare velocemente il contenuto in timochinone. Così pure la conservazione dell'olio di semi di cumino nero lontano dalla radiazione solare è un elemento fondamentale per mantenere intatto il contenuto di timochinone nell'olio. In genere il contenuto maggiore di timochinone si evidenzia nell'olio fresco, con un contenuto medio di 7,2 milligrammi millilitro contro i 4,8 milligrammi millilitro dell'olio conservato 12 mesi. Dal punto di vista della biodisponibilità orale parliamo di una sostanza scarsamente assorbita lungo il tratto gastrointestinale e quel poco che ne viene assorbito viene anche velocemente degradato. Aumentare le dosi orali di timochinone non è una strategia percorribile poiché questa sostanza a dosi elevate è potenzialmente tossica. Uno studio clinico riporta che la dose giornaliera massima è stimata a 50 milligrammi di timochinone per gli adulti considerando gli studi clinici su modello murino. In realtà poco o nulla si sa degli effetti tossicologici del timochinone sugli esseri umani. Tuttavia le iniezioni intraperitoneali di dosi elevate di timochinone nei ratti hanno provocato segni di pancreatite acuta, calo del peso corporeo ed altre alterazioni degli organi dell'apparato digerente. Così pure dosi elevate per somministrazione orale nei ratti hanno provocato calo del peso corporeo, diarrea, letargia, dispnea, inoltre il 30% dei ratti in esame. In un altro studio clinico si riporta che la somministrazione orale di 2 o 3 grammi di timochinone per chilogrammo di peso corporeo nei ratti ha provocato una riduzione dei livelli di glutatione nel fegato, nei reni e nel cuore con un aumento significativo delle concentrazioni plasmatiche dell'urea, della creatinina, della lanina minotrasferasi, della lattato dei idrogenasi e della creatinin fosfochinasi. Questo significa che sebbene il timochinone sia sicuro le dosi di impiego normali può essere potenzialmente tossico e provocare anche gravi effetti collaterali se assunto a dosi troppo elevate. Per questo motivo non è possibile aumentare le dosi orali di timochinone per cercare di aumentarne la biodisponibilità sistemica. Prima di parlare delle proprietà terapeutiche del timochinone e dell'olio di semi di cumino nero vorrei sottolineare una cosa molto importante. Per migliorare la biodisponibilità orale del timochinone è possibile impiegare diverse strategie che ne aumentano l'assorbimento intestinale. Queste strategie si basano sull'incapsulamento del timochinone in sistemi a rilascio modificato. Tra i più semplici voglio ricordare per esempio i liposomi e i niosomi. Esistono tuttavia molte altre tecnologie farmaceutiche innovative per veicolare il timochinone e dotarlo di una maggiore biodisponibilità orale. Sto parlando per esempio dei sistemi di somministrazione di farmaci auto nano emulsionanti, gli SNETs, che sono costituiti da un olio, da un tensio attivo, da un principio attivo o da una sostanza funzionale come in questo caso il timochinone, da un coemulsionante o un solubilizzante. Questi sistemi formano spontaneamente sotto lieve agitazione delle nano emulsioni olio in acqua di dimensioni molto piccoli, pari o inferiori a 200 nanometri. Oltre a migliorare nettamente la stabilità termodinamica e l'assorbimento orale delle sostanze veicolate, gli SNETs hanno l'ulteriore vantaggio di essere semplici da preparare e soprattutto a basso costo. Una di queste tecnologie per esempio prevede l'utilizzo del timochinone come farmaco, del Capriol 90 come fase oleosa, del Twin 20 come emulsionante e dell'alcol isopropilico come co-tenzio attivo. Tutte queste sostanze sono naturalmente veicolate in acqua ultrapura per uso farmaceutico. Questo tipo di sistema permette di aumentare di circa 3,8 volte la biodisponibilità orale del timochinone rispetto ad una sospensione standard. I benefici dell'olio di semi di cumino nero ma più in generale anche degli estratti della nigella sativa titolati in timochinone sono davvero molteplici ed è difficile riassumere brevemente le proprietà farmacologiche di questa incredibile pianta medicinale. Per semplificare le cose ho raccolto in questa tabella le principali proprietà terapeutiche riconosciute alla nigella sativa e nei capitoli successivi di questo video tratterò in modo specifico ogni singola proprietà. L'attività antiossidante dei semi e dell'olio di cumino nero è forse la madre di tutte le proprietà di questa spezia e dei suoi derivati. In genere in tutti i saggi in vitro i ricercatori hanno scoperto che l'olio di semi di cumino nero è dotato di buone proprietà antiossidanti derivate principalmente dal contenuto in timochinone e dei suoi analoghi. Infatti il timochinone è capace di ridurre le concentrazioni dei radicali liberi nelle cellule aumentando i livelli del glutatione e di alcuni enzimi antiossidanti tra cui la superosseodismutasi e la catalasi. L'attività antiossidante è stata studiata in modo molto preciso e si è scoperto che l'aumento delle specie antiossidanti deriva dalla sovraregolazione di alcune proteine chinasi che vi lascio in tabella e dalla modulazione dell'NFKB. In letteratura sono presenti diverse meta analisi e alcune revisioni sistematiche sulle proprietà antiossidanti dell'olio di cumino nero relative agli studi sull'essere umano. In particolare nel 2023 è stata pubblicata una revisione sistematica e meta analisi condotta su 16 studi clinici per un totale di 1033 pazienti affetti da sindrome metabolica. In questo caso si concludeva che l'assunzione di olio di cumino nero era associata ad un miglioramento dello stress ossidativo e ad un aumento dei livelli di superosseodismutasi e di catalasi nel sangue. Inoltre è stato scoperto che il consumo di olio di cumino nero è associato ad una riduzione di molti indici infiammatori che vi lascio in questa tabella. Molte altre revisioni sistematiche meta analisi riportano dati più o meno compatibili con questi risultati. Quindi si può affermare con sufficiente sicurezza che il consumo di olio di cumino nero ma anche di semi o di estratti di nigella sativa porta ad un miglioramento dello stress ossidativo sistemico. Oltre a questo l'olio di cumino nero mostra un'interessante capacità di chelare i metalli. In vitro la sua efficacia è dose dipendente ed è massima alla concentrazione di 200 microgrammi millilitro. A questa concentrazione l'effetto chelante è del 74,56% un po' meno rispetto a quello riscontrato con le DTA di 87,90%. L'attività chelante è a supporto dell'attività antiossidante poiché sequestrando gli ioni metallici si rallentano i processi ossidativi. Una meta analisi condotta su sette studi clinici per un totale di 439 pazienti coinvolti indica che il consumo di olio di cumino nero a dosi giornaliere comprese tra 1 e 3 grammi può ridurre significativamente i livelli della proteina cireattiva nel sangue. Dal punto di vista farmacologico il timo chinone e i suoi derivati mostrano un'interessante capacità inibitoria sulla ciclo ossigenasi di tipo 2 e quindi sono dotati di interessanti proprietà antinfiammatorie. Secondo i dati raccolti sembra che il timo idrochinone abbia un'affinità maggiore per la ciclo ossigenasi di tipo 2 rispetto al timo chinone. Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 42 pazienti con artrite reumatoide conclude che la somministrazione di 1000 mg al giorno di olio di cumino nero riduce i livelli sierici dello stress ossidativo del tumor necrosis factor alfa e dell'interleuchina 10 dopo 8 settimane di trattamento. A seguito di questi risultati i ricercatori concludono che l'olio di cumino nero potrebbe rivelarsi un nutraceutico molto interessante per ridurre potenzialmente i sintomi infiammatori in caso di artrite reumatoide. Anche un altro studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 90 donne obese ha dimostrato che l'assunzione orale di 3 grammi al giorno di olio di cumino nero associato ad una dieta ipocalorica porta ad una riduzione dei marcatori infiammatori dopo 8 settimane di trattamento. Di contro uno studio clinico sempre randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 96 pazienti affetti da malattia di Besset ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 1000 milligrammi di olio di cumino nero sebbene possa migliorare in qualche misura gli indici dello stress ossidativo non sembra modulare i processi infiammatori. In linea generale è presumibile che l'efficacia clinica dell'olio di semi di cumino nero sia dose dipendente e quindi gli studi futuri dovrebbero concentrarsi su un numero molto più elevato di pazienti utilizzando dosi crescenti di olio di semi di cumino nero. Per quanto riguarda l'applicazione topica dell'olio di semi di cumino nero per il trattamento delle malattie infiammatorie diversi studi clinici in vitro e in vivo sembrano confermare le proprietà analgesiche di questo preparato. In particolare uno studio clinico randomizzato in doppio cieco e condotto su 52 uomini di età compresa tra i 60 e gli 80 anni affetti da osteortrosi al ginocchio ha dimostrato che l'applicazione topica dell'olio di cumino nero eseguita due volte al giorno per 21 giorni riduce il dolore ed ha presumibilmente un'efficacia migliore rispetto ad un farmaco per uso topico a base di diclofenac. Alcuni studi clinici in vitro e su modello murino hanno dimostrato che l'estratto di nigella sativa è capace di aumentare il numero dei macrofagi. I macrofagi sono quelle cellule estema immunitario che sono deputate ad eliminare le particelle estranee come per esempio i microbi e a sintetizzare molecole infiammatorie capaci di richiamare altre cellule del sistema immunitario come i linfociti. Oltre a questo anche l'olio di semi di cumino nero e il timochinone sono dotati di proprietà immunomodulanti poiché sono capaci di ridurre la sintesi di alcune citochine proinfiammatorie come l'interleuchina 2, l'interleuchina 6 e le prostaglandine E2. Altri studi clinici confermano che la nigella sativa è capace di aumentare la risposta immunitaria mediata dai linfociti T e dalle cellule natural killer. In vivo uno studio clinico randomizzato in doppio cieco e condotto su 52 soggetti sani ha dimostrato che l'assunzione di un grammo di polveri di semi di nigella sativa può aumentare la conta totale dei linfociti CD3+, e CD4+, dopo quattro settimane di utilizzo. È interessante notare in questo studio clinico che solo la dose di un grammo al giorno è stata capace di dare questi risultati. Dosi superiori o dosi inferiori non hanno promosso alcuna attività sul sistema immunitario. Un'altra interessante scoperta è stata fatta in uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo a gruppi paralleli e condotto su 43 pazienti affetti da artrite reumatoide. Dopo due mesi di trattamento con un grammo di olio di semi di cumino nero al giorno è stata riscontrata una riduzione statisticamente significativa della proteina C reattiva ed un miglioramento dei gonfiori articolari. Questo tipo di strategia ha permesso di ridurre il numero dei linfociti CD8+, e di aumentare il numero dei linfociti CD4+, CD25+. I ricercatori concludono che l'olio di cumino nero oltre a modulare il sistema immunitario può essere un valido aiuto per il trattamento dell'artrite reumatoide. Risultati comparabili sull'aumento dei linfociti CD4+, sono stati riscontrati anche in uno studio clinico condotto su 25 bambini affetti da beta-talassemia major o mozigote. In questo caso il trattamento giornaliero con due grammi di polvere di semi di nigella sativa per tre mesi ha ridotto lo stress ossidativo sistemico ed ha aumentato i livelli dell'emoglobina nel sangue e la conta dei globuli bianchi, migliorando la risposta immunitaria cellulo-mediata con aumento dei linfociti CD4+. A differenza del precedente trial clinico, questo studio ha riscontrato anche un aumento dei linfociti CD8+. Secondo questi risultati, la terapia con la polvere dei semi di cumino nero potrebbe rivelarsi potenzialmente efficace per ridurre gli effetti collaterali della terapia chelante e migliorare il quadro clinico della beta-talassemia. L'azione neuroprotettiva dell'olio e dei semi del cumino nero è mediata principalmente dalle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie di questa pianta medicinale. Studi su modello Murino suggeriscono che l'assunzione di estratto di nigella sativa può aumentare i livelli del fattore di crescita dell'endotelio vascolare e del fattore inducibile da lipossia, riducendo i livelli delle metallopeptidasi di tipo 9. Questo significa che la nigella sativa è capace di favorire l'angiogenesi in ratti a cui è stata indotta una ischemia cerebrale. Ci sono poi altre evidenze, sempre su modello Murino, che mostrano il potenziale neuro-rigenerativo della nigella sativa in caso di sclerosi multipla. In particolare la nigella sativa è capace di ridurre l'infiammazione neuronale e migliorare la deposizione della mielina, che è la guaina che protegge le fibre nervose. Questi effetti farmacologici hanno permesso di migliorare le caratteristiche cerebrali dei topi, favorendo le funzioni comportamentali e motorie. Purtroppo in letteratura sono presenti pochi studi clinici sull'essere umano e quindi è ancora prematuro parlare di proprietà neuro-rigenerative e neuro-protettive sull'essere umano. Sta di fatto che il timochinone, ma anche tutti i prodotti di estrazione dei semi di cumino nero, mostrano un potenziale farmacologico molto alto nei confronti delle malattie neuro-degenerative, come per esempio il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson. Inoltre queste sostanze potrebbero rivelarsi potenzialmente efficaci anche per il trattamento della depressione, dell'ansia e dell'epilessia. Nel 2013 è stato pubblicato un interessante studio per valutare le proprietà sulla memoria, sull'attenzione e sulla cognizione a seguito di integrazione di nilgella sativa. Questo studio clinico controllato con placebo in doppio cieco e condotto su venti volontari suggerisce che l'assunzione di 500 mg di polvere di semi di cumino nero due volte al giorno per nove settimane può potenzialmente favorire i processi cognitivi. L'olio e tutti gli altri prodotti di estrazione dai semi di cumino nero possiedono interessanti proprietà antitumorali, poiché capaci di indurre la morte di molte linee cellulari di cancro che vi lascio in tabella. L'olio ma anche tutti gli altri prodotti di estrazione dai semi di cumino nero possiedono interessanti proprietà antitumorali, poiché capaci di indurre la morte di molte linee cellulari di cancro che vi lascio in tabella. In particolare su modello murino il timochinone è capace di inibire la progressione della massa tumorale, inibendo l'espressione del fattore eucariotico di allungamento di tipo secondo. Oltre a questo esistono molte altre vie biochimiche che vi lascio in tabella su cui agisce il timochinone ma anche l'intero fitocomplesso della nigella sativa, inducendo infine l'apoptosi delle cellule tumorali. L'attività antimicrobica della nigella sativa è nota da diversi decenni. Infatti questa pianta medicinale esplica proprietà antibatteriche, antiparassitarie, antivirali e antifungine nei confronti di diverse specie di microbi. È attiva contro alcuni batteri gram positivi, alcuni batteri gram negativi, alcuni virus, parassiti e perfino contro la candida albicans. Oltre a questo i risultati di diversi studi clinici in vitro e su modello animale mostrano che gli estratti della nigella sativa possono favorire l'azione antibatterica di diversi antibiotici che vi lascio in questa tabella. Anche l'olio di cumino nero mostra attività antimicrobiche, molto simili a quelle riscontrate con l'utilizzo degli estratti. È interessante notare che in uno studio clinico in vitro condotto su 144 ceppi batterici multiresistenti, l'olio di cumino nero ne ha inibito la proliferazione di ben 97. Questo risultato è davvero molto importante poiché dimostra il potenziale antimicrobico dell'olio di cumino nero e mette le basi per studi clinici futuri. Tra i composti attivi della nigella sativa sicuramente il timochinone riveste un ruolo centrale poiché dotato di spiccate proprietà antibatteriche, antivirali e antifungine. Tuttavia ci tengo a precisare che tutto il fito complesso prende parte all'attività antimicrobica di questa pianta medicinale. L'azione antiparassitaria dell'estratto idroalcolico della nigella sativa si è rivelata efficace per ridurre il numero delle uova di cestodi, che sono dei vermi intestinali, presenti nelle feci dei bambini. Oltre a questo molti altri studi su modello animale confermano le proprietà antiparassitarie di questa pianta medicinale, come nel caso della cocidiosi dei conigli. Sull'azione antivirale ci sono alcuni studi in vitro ma pochi studi in vivo, quindi ad oggi non si può sapere quanto il cumino nero sia efficace nelle malattie virali. Un trial clinico randomizzato in aperto e condotto su 173 pazienti con sintomi lievi da covid-19 suggerisce che l'assunzione di 1000 mg al giorno di olio di cumino nero può potenzialmente migliorare il recupero dei sintomi clinici della malattia dopo 10 giorni di trattamento. Sarebbe molto interessante se in futuro venissero fatti ulteriori studi clinici per sondare le proprietà antivirali di questa pianta medicinale sia per via sistemica che per via topica. Infatti sia l'olio che gli estratti della nigella sativa mostrano in vitro delle interessanti proprietà antivirali nei confronti di diversi tipi di ceppi di virus, come il citomegalovirus, il virus dell'epatite C e i virus influenzali. Una revisione sistematica condotta su 7 studi clinici per un totale di 517 pazienti coinvolti ha dimostrato che l'assunzione di olio di semi di cumino nero è associata ad una riduzione statisticamente significativa della glicemia e dell'emoglobina glicata. In genere l'assunzione di 2-3 grammi di olio di semi di cumino nero permette di ottenere buoni risultati già dopo 12 settimane di trattamento. Inoltre 4 dei 7 studi clinici riportano che l'assunzione giornaliera di 2 grammi di olio di semi di cumino è associata ad una riduzione della resistenza all'insulina. L'olio di cumino nero potrebbe quindi rivelarsi una strategia interessante per favorire l'abbassamento della glicemia e per normalizzare i livelli di insulina nel sangue. Una delle revisioni sistematiche più importanti condotta su 50 studi clinici riporta che il consumo di nigella sativa e quindi sto parlando sia dell'olio che dei semi è associato ad una riduzione statisticamente significativa del colesterolo totale, dei trigliceridi, del colesterolo LDL e del colesterolo VLDL. Inoltre questa revisione conferma le proprietà ipoglicemiche della nigella sativa con una riduzione statisticamente significativa dei livelli di glucosio e dell'emoglobina glicata nel sangue. In linea generale l'attività ipolipidemica dell'olio di semi di cumino nero si esplica già dopo 12 settimane di trattamento con dosaggi giornalieri compresi tra 1 e 3 grammi. Una revisione sistematica e meta-analisi del 2023 riporta che il consumo di nigella sativa è associato ad una riduzione statisticamente significativa della pressione arteriosa. In particolare si è notata una riduzione di circa 3 mm di mercurio per quanto riguarda la pressione arteriosa sistolica e di 2,69 mm di mercurio per quanto riguarda la pressione arteriosa diastolica. Anche un'altra revisione sistematica e meta-analisi condotta su 11 studi clinici randomizzati per un totale di 860 individui conclude che l'assunzione di nigella sativa può ridurre la pressione arteriosa sistolica di circa 3,26 mm di mercurio e di circa 2,8 mm di mercurio la pressione arteriosa diastolica. In questo caso sembra che l'assunzione di polvere di semi di cumino nero risulti più efficace rispetto all'assunzione dell'olio. Per quanto riguarda i dosaggi uno studio clinico sperimentale condotto su 200 pazienti suggerisce che l'assunzione giornaliera per 12 settimane di 1,5 grammi di polvere di semi di nigella sativa può essere potenzialmente efficace come rimedio ipotensivo. Per avere maggiori informazioni per quanto riguarda i rimedi fitoterapici utili in caso di ipertensione lieve vi consiglio di leggere il mio libro Prevenire e curare secondo natura dove troverete una parte dedicata con tutte le spiegazioni. L'azione antiossidante del cumino nero è sicuramente utile per prevenire i danni causati dalle sostanze tossiche come il fumo e gli inquinanti ambientali. Tuttavia oltre a questo la nigella sativa può rivelarsi utile come agente broncodilatatore migliorando il quadro clinico dell'asma. Infatti una meta analisi condotta su quattro studi clinici randomizzati per un totale di 187 pazienti coinvolti conclude che l'integrazione della nigella sativa per periodi variabili da quattro settimane fino a tre mesi può potenzialmente migliorare alcuni parametri respiratori e svolgere un ruolo di supporto al trattamento dell'asma. Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 80 pazienti asmatici suggerisce che l'integrazione di 500 milligrammi di olio di semi di cumino nero due volte al giorno per quattro settimane può essere efficace per ridurre i sintomi clinici dell'asma e favorire la normalizzazione dei livelli degli eusinofili nel sangue. Come abbiamo visto la nigella sativa è dotata di spiccate proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e ipolipidemiche. Una revisione sistematica e meta analisi condotta su quattro studi clinici randomizzati e controllati conclude che l'assunzione di nigella sativa è efficace per ridurre i livelli degli enzimi epatici, la ST e le ALT, abbassando inoltre, come abbiamo anche già visto, i livelli del colesterolo e dei trigliceridi. Nella statosi epatica non alcolica il consumo dei semi o dell'olio di cumino nero può rivelarsi un prezioso aiuto per ridurre i sintomi clinici della malattia. In particolare sembra che l'assunzione di 2,5 millilitri di olio di semi di cumino nero ogni 12 ore per 3 mesi possa ridurre il danno al fegato senza provocare effetti collaterali. In uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 70 pazienti affetti da dispepsia funzionale è stato dimostrato che l'assunzione giornaliera di una miscela a base di miele e di 5 millilitri di olio di semi di cumino nero per 8 settimane è associata ad un miglioramento dei sintomi della malattia. In effetti diversi studi clinici su modello animale riportano che l'assunzione di olio di semi di nigella sativa può aumentare la barriera antiossidante della mucosa gastrica e ridurre la liberazione di stamina e svolgendo quindi un effetto gastro protettivo. Un altro studio clinico in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 51 pazienti positivi all'elicobacter pylori conclude che l'integrazione giornaliera di 2 grammi di polveri di semi di nigella sativa può rivelarsi efficace per migliorare l'appetito ed aumentare l'efficacia della terapia antibatterica. Un solo studio clinico randomizzato in doppio cieco e controllato con placebo ha esaminato gli effetti della nigella sativa sulla spermatogenesi. In particolare è stato dimostrato che l'assunzione di 5 millilitri di olio di semi di cumino al giorno può influire positivamente sulla concentrazione e sulle caratteristiche degli spermatozoi dopo 60 giorni di trattamento. Oltre all'uomo anche la donna può trarre dei potenziali benefici sull'integrazione di olio di cumino nero. Infatti 30 donne in menopausa di età compresa tra i 45 e i 60 anni con rischio di sindrome metabolica hanno avuto dei benefici dopo due mesi di trattamento con una dose giornaliera di un grammo di olio di semi di cumino nero. In questo studio è stato riscontrato un abbassamento del colesterolo totale, dei trigliceridi, del colesterolo LDL e della glicemia con un aumento del colesterolo HDL. Anche un altro studio clinico ha dimostrato che l'integrazione giornaliera di 1,6 grammi di polvere di semi di cumino nero per 12 settimane può ridurre il rischio di sindrome metabolica in post-menopausa, riducendo l'aumento del peso corporeo, dei lipidi e del glucosio. L'integrazione di olio di cumino nero è inoltre potenzialmente efficace anche in caso di ovaio policistico con oligomenorrea. In particolare uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo e condotto su 84 donne affette da ovaio policistico con oligomenorrea ha dimostrato che l'assunzione giornaliera di 500 milligrammi di olio di semi di cumino nero due volte al giorno può regolare la frequenza delle mestruazioni. L'olio di semi di cumino nero è un alimento che non presenta particolari effetti collaterali specie se utilizzato per brevi periodi di 2-3 mesi. In individui ipersensibili possono comunque verificarsi degli effetti collaterali gastrointestinali, nausea, vomito, irritazione gastrica, crampi addominali, stitichezza e in casi gravi possono comparire delle reazioni cutanee che rendono inevitabile la sospensione del trattamento. La nigella sativa è una pianta galattogena e quindi può aumentare la resa di latte a causa della presenza di fitoestrogeni come l'anetolo che è capace di favorire il rilascio della prolattina. Per questo motivo il consumo di nigella sativa e dei suoi derivati è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. La nigella sativa può ridurre la biodisponibilità orale del sildenafil, della fenitoina e della ciclosporina A. Inoltre può aumentare la biodisponibilità orale della moxicillina e della glibencamide. Come integratore alimentare la nigella sativa e i suoi derivati, quindi gli estratti, l'olio e così via, non possono vantare alcun claim specifico in quanto nell'allegato 1 del 2018 sulle piante ammesse negli integratori non si riporta alcun effetto fisiologico per questa pianta medicinale. L'unica avvertenza che si deve riportare sempre in etichetta è la dicitura sconsigliato a bambini, adolescenti, donne in gravidanza e allattamento. Dalla ricerca che ho fatto in data odierna sono emerse delle cose abbastanza terrificanti che rappresentano come sempre i retroscena del marketing. Considerando gli integratori in capsule a base di olio di semi di cumino nero e considerando le medesime caratteristiche chimico-fisiche microbiologiche dell'olio di cumino nero i prezzi al milligrammo variano da un minimo di 0,08 euro fino ad un massimo di 0,64 euro. Questo significa che a parità di qualità voi potete pagare un milligrammo di olio di semi di cumino nero fino a otto volte di più rispetto al prezzo più basso presente in mercato. Per quanto riguarda l'olio di cumino nero in bottiglia anche in questo caso sono presenti delle differenze a parità di qualità. In questo caso i prezzi al millilitro variano da un minimo di 0,048 euro fino ad un massimo di 0,198 euro. Questo significa che a parità di qualità voi potete pagare un millilitro di olio di semi di cumino fino a 4,1 volte di più rispetto al prezzo più basso di mercato. Considerando che la densità dell'olio di semi di cumino nero è di 0,92 kg litro si può scoprire quanti millilitri sono presenti nei prodotti in capsule e quindi verificarne il prezzo al millilitro. I prezzi al millilitro in questo caso variano da un minimo di 0,074 euro fino ad un massimo di 0,592 euro. Voglio ricordare che ad oggi i prezzi al millilitro dell'olio di semi di cumino nero in bottiglia variano da 0,048 euro fino ad un massimo di 0,198 euro. Questo significa che dal punto di vista del contenuto nominale vale la pena sempre orientarsi sui prodotti in bottiglia rispetto alle capsule. Naturalmente poi bisogna considerare anche la comodità e la presenza di dosaggi già preformati per esempio da 500 o 1000 milligrammi per capsula e in questo caso naturalmente le capsule risultano più comode rispetto ai prodotti in bottiglia. Comunque quello che mi interessa sottolineare per la miliardesima volta è come sia facile farsi fregare al giorno d'oggi perché pagare una cosa a parità di qualità otto volte di più è abbastanza terrificante. Dovete comunque fare attenzione a non focalizzarvi solo sul lato monetario ma dovete imparare ad analizzare la composizione di quello che state acquistando cancellando tutto quello che vi vomita il marketing o chi perisso. Dovete analizzare solo la composizione e il prezzo e la qualità del prodotto e in questo caso vi posso assicurare che risparmierete tanti ma tanti soldi. Spero che questa revisione così lunga e dettagliata sull'olio di cumino nero vi sia piaciuta. Vi caricherò il video sulle proprietà dermatologiche e cosmetiche dell'olio di cumino nero sul canale di pelle perfetta e vi invito tutti a seguire questo canale per farlo crescere. Come sempre se avete delle domande o delle curiosità potete scrivermi a infochiocciola voxalcorporation.com e noi ci vediamo al prossimo video.